Consigliere Pettinari, lei chiede l'impiego di personale medico e infermieristico dell'esercito per lavorare negli ospedali Covid della nostra regione. Perché questa richiesta? In provincia di Pescara stiamo vivendo una emergenza mai vista prima. Purtroppo la situazione è gravissima. Devo constatare il fallimento dell'ospedale Covid perché l'ospedale Covid è al collasso. Ci avevano messo a credere quando hanno tagliato il nastro che avrebbero risolto tutti i problemi della provincia di Pescara con l'ospedale Covid. In questo momento si stanno ricoverando pazienti nell'ospedale pulito, quindi si stanno sporcando reparti puliti. Nel Covid ho fatto un focus particolare sulla terapia intensiva. Abbiamo circa 40 pazienti ricoverati. Operano in questo momento 6 medici per turno e 12 infermieri per turno a fronte delle linee guida regionali che prevedono almeno un medico ogni 4 pazienti e un infermiere ogni 2 pazienti. Quindi all'appello mancano 4 medici e 8 infermieri per turno. Quindi la situazione è catastrofica e gravissima. Io chiedo all'assessore regionale Viri, al Presidente di Regione, di chiedere al Ministero della Difesa l'invio di medici e infermieri militari perché solo così si può tamponare il problema. Altra cosa importante è che sono stati assunti neo-infermieri, stanno operando neo-infermieri anche con una formazione non equiparabile agli altri. Potete immaginare l'offerta non solo. Si sta facendo lavorare ancora il personale precario, operatori sociosanitari precari. È una situazione pandemica, non possiamo lasciare operare il personale precario perché devono essere immediatamente stabilizzati. In pronto soccorso l'OBI può contenere 8 posti. Abbiamo registrato punte di 30-35 pazienti ammassati in stanze che possono contenere 8 posti. Il personale sta facendo turni massacranti di 12 ore e questo non è più concepibile, è fattibile. Questo è il fallimento della gestione sanitaria da parte del centro-destra e della Regione Abruzzo. Si faccia presto, si faccia subito per garantire la tutela ai nostri pazienti e ai nostri malati.